Buongiorno a tutti! Ciao a tutte! Diciamo perché siamo qua oggi? Sì, vi vogliamo oggi presentare e farvi vedere come funzionano i nostri prodotti e dispositivi, i dispositivi Dream Vision e Dream Beauty Pro che serve sia per il corpo che per il viso e Dream Vision invece che serve per il contorno occhi. Sono dei dispositivi fantastici che hanno un'efficacia straordinaria, li abbiamo provati sia su di noi e sia su altre nostre ragazze che si sono provate benissimo e vogliamo presentare anche a voi questo dispositivo, come funziona e come funziona. Eccoci qua, prontissime! A Pagliostri senza trucco! Ecco adesso vi svelo il segreto perché ero senza trucco, tutta naturale. Sì, adesso usiamo il nostro dispositivo sopra di Sissi, così vediamo un attimino gli... Eccoci qua, prontissime a provare i nostri dispositivi, sopra la bellissima Sissi, la facciamo diventare ancora più bella. Sì, mi sono messa la fascetta, chiediamo ognuna nostra chi è. La gente, come funziona Dream Beauty Pro? Sì, allora Dream Beauty Pro è facilissimo da usare. Ha tre tastini, come vedete, questo è per l'accensione. Wow, che bella! Ok, con questo si comanda i programmi, la potenza e con questo il programma. Schiaccia! Allora abbiamo cinque tipi di potenza, da uno a cinque, l'uno e il due lo utilizziamo per il viso e dal tre al cinque invece solo per il corpo. I programmi possiamo utilizzare tutti e cinque in base alle nostre esigenze. Ok. Ecco qua, questo invece è il Dream Vision, quello che serve per il contorno occhi. È più delicato naturalmente del Dream Beauty Pro, è semplicissimo. Vibra! Sì, vibra. Ha tre programmi, questo che vedete è 42, la temperatura che potete regolare con i più o con i meno, in base alla vostra sensibilità della pelle. E poi naturalmente la carica, la batteria. È semplicissimo da usare, veramente semplice. Allora, intanto questi dispositivi funzionano tramite questi gel che sono appunto importanti per poter trasmettere nella pelle e riuscire a far entrare tutti i principi attivi all'interno dell'epidermine. Abbiamo questo che è per il corpo, che è anche anticellulite, e quest'altro invece è per il viso ed è anti-age. E in più contiene sia aloe che ganoderma, che è alla base dei nostri prodotti. E adesso vi faccio vedere... Ok, adesso mettiamo il gel a sissi, in quantità abbondante, su metà viso. Molto importante, per fare questa operazione bisogna assolutamente togliere tutte le cose metalliche, quindi anelli, orecchini, tutto va tolto. Anche lenti? Sì, sì, anche chi ha le lenti deve assolutamente togliere... Mettiamo come programma uno o massimo due, come vi ho detto, perché la pelle del viso è molto sensibile. Selezioniamo il programma uno per il momento e andiamo ad applicare il dispositivo. Sentirete delle piccole scosse, ma non allarmatevi, è solamente il muscolo del viso che sta appunto reagendo al dispositivo. Perché ha effetto rimpolpante. Vedete qua? Come va, Sissi? Bene! Per quanto riguarda l'applicazione dovete andare dal basso verso l'alto, così, e poi scendere dolcemente, puoi spingere, salire, e puoi scendere leggermente. Non dovete mai staccare il dispositivo. Deve sempre essere a contatto. Vedete questi due? Questi due sensori devono essere sempre a contatto con il viso. Non andate troppo vicino al contorno occhi, perché è molto delicato. Questo per tre minuti. State tranquilli perché comunque c'è un timer, quindi si spegnerà quando sarà il momento di bloccare il dispositivo. Intanto andiamo a accendere il dispositivo facilissimo. Lo premo leggermente, dopodiché metto tantissimo gel, qui un po' sul dispositivo in modo che la luce rossa scaldi. Ecco qua. E dopo lo posso mettere anche un po' sugli occhi. Chiara? Sì, sì. Grazie. Allora, metto un po' di gel qua negli occhi, così, sopra la palpebra e sotto. E inizio a utilizzare il dispositivo. Questo dispositivo l'ho usato per un massimo di un minuto e mezzo ad occhio. Oh, è caldo! Quindi in tre minuti avete fatto tutto. Sì, è caldo perché c'è la luce rossa. L'applicazione è da dentro verso fuori. Poi ritorno leggermente e poi premo da dentro verso fuori. Movimento è sempre questo. Poi posso fare la stessa cosa nell'alto, da dentro verso fuori, ritorno leggera. Non mi stacco mai dalla pelle. Questo serve tantissimo per sbiancamento, per eliminare le piccole rughette di espressione che si fanno. Abbiamo tre modalità di funzionamento. Il primo è la vibrazione, la seconda è la compressione calda e l'altra è la luce rossa. Io per me utilizzo tutte e tre le modalità assieme. Comunque non sono più giovanissime, quindi mi serve come antiruga. Il fetto è un tripe effetto, che sono appunto sbiancamento, rigeneramento della pelle, antiruga, ricostruzione della elasticità dei muscoli degli occhi. Ecco qua. Eccoci qua. Adesso vi faccio vedere i risultati. Abbiamo anche uno spettatore, come vedete, che è venuto a vedere quanto è bella la mamma. Bella. È Adam. Guardate un po'. Visto questo occhio. Guardate un po'. La differenza che c'è tra questo occhio e questo, con un solo trattamento. Quindi immaginate farlo tutti i giorni, quali possono essere gli effetti. Sto occhio è proprio oscillato in su. Guarda qua. Guarda che differenza. Anche qua. Guarda qui. Sì. Come vedete, questi sono i risultati. Noi siamo soddisfattissime. Per queste informazioni chiedete più.